Ciao a tutti, oggi prepareremo il ponce all'arancia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, succo d'arancia, rum, zucchero, anice stellato, cannella e scorza d'arancia. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza d'arancia. Ed azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10. Li unire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'acqua. Il rum. Il succo d'arancia. La cannella. E l'anice stellato. Ed azioniamo il bimbi per 5 minuti, 90 gradi, velocità 1. Il ponce è pronto. Filtrare e servire ancora caldo. Poncia all'arancia. Servire ancora caldo. Oppure conservare in frigo per un massimo di 3 giorni e scaldarlo in un pentolino prima di servirlo. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie.